Carissimi concittadini contursani, il mio augure di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, quest'anno vuole essere un pensiero molto speciale per voi e per le vostre famiglie. Ci accinciamo a vivere ed a trascorrere delle festività natalizie non usuali, che nessuno avrebbe potuto né voluto prevedere. Per tutti noi le festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un importante momento di riflessione e di responsabilità. Sono consapevole che purtroppo nella nostra comunità ci sono famiglie in difficoltà. Tutto questo provoca in me e in tutta l'amministrazione comunale una grande amarezza. Ma nel contempo ci stimola ad utilizzare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per affrontare ed alleviare il disagio di queste nostre famiglie. Lo spirito di fiducia e positività che anima tutti noi amministratori ci fa guardare al futuro con maggiore speranza. Vanno proprio in questa direzione gli sforzi che stiamo compiendo, ponendo grande attenzione al bilancio comunale, alla realizzazione di grandi opere pubbliche, di interventi a medio e lungo termine, per lo sviluppo del nostro Paese, convinti come siamo che la nostra comunità è aperta alla solidarietà e alla condivisione. A tutti noi voglio augurare di affrontare il futuro sentendoci sempre più solidali l'uno con l'altro, rivautando il ruolo della famiglia come noto principale. In questo mio messaggio di auguri il pensiero non può non andare, come dicevo precedentemente, alle famiglie in difficoltà, alle persone meno ambienti, agli ammalati, agli anziani, ai titolari di attività commerciale, a tutti coloro che nel rispetto delle regole e nel rispetto altrui hanno osservato le relative quarantene siano stati essi positivi o meno, alle famiglie che hanno perso i loro cari a causa di questo maledetto virus, alle persone sole che quest'anno l'associazionismo ha voluto per il giorno di Natale farli sentire meno soli, offrendo loro un pasto caldo, agli alunni di qualsiasi ordine e grado che hanno dovuto affrontare la dura esperienza della didattica a distanza, agli insegnanti per la loro grande disponibilità e professionalità ed a tutto il mondo della scuola. Io non mi stancherò mai di ringraziare tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo, del terzo settore che si è speso infaticabilmente con creatività e spirito di adattamento per non lasciare solo nessuno di noi. A tutte le forze dell'ordine, al nostro parroco Don Salvatore Spinci che durante la messa di ieri sera ha detto una cosa bellissima, ci tiene tutti nel cuore. A tutto il personale sanitario e qui voglio comunicare alla cittadinanza la nascita dell'USCA in località Tufare che è a completa disposizione e al servizio dell'intera Valle del Sele. A tutti i dipendenti comunali che con dignità e spirito di sacrificio rendono agevole la nostra vita quotidiana ed è per questo che l'amministrazione comunale sta lavorando per rendere più dignitosa la vita dei lavoratori part-time mediante l'ingremento delle ore perché il lavoro e dignità è la stessa non va mai calpestata. Auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini residenti e non a tutto il Consiglio Comunale di maggioranza ed opposizione che la dialettica politica anche dura vada sempre in un'unica direzione l'interesse della nostra splendida comunità. Concludo augurando a tutti voi miei cari concittadini un Natale sereno ed un nuovo anno se possibile migliore di quello passato con la speranza che questa festa possa alimentare l'amore per la nostra comunità e rafforzare la volontà di collaborazione per la costruzione di un futuro migliore per la nostra città. Buon Natale dal profondo del cuore a tutti voi e alle vostre splendide famiglie. Buon appetito a tutti.